Non vuole più attenzione eh ragazzi Vai Franky Vai Franky Eh ho capito ma se non mi basta neanche uno sono ancora più inutile Ma vai, vai benissimo Vai, tu vai dentro vedi come... Vieni eh Gli fai solamente paura Franky Guarda che non è pure Entra dentro, entra Vai senza paura col coltello Madonna Franky Vai 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 Ma sei un toro Quattro Cinque Ma Franky cos'è? Ricarico, ricarico un attimo Si, si Ci sono due con gli RPG Ok Vai Franky vai Ricarico, è dietro il muro Dovresti stare per ultimo ma vai vai Ok che ora ci incontriamo eh ragazzi Vai Fede, vieni anche tu Piano, piano Ma c'è un altro, no? No no, è pulito Vai, lanci tu la nada Red Lancio io eh Ok siamo noi Aspetta, aspetta, fammi vedere come la lancio Ok, siamo noi Io sto lontanissima Mardoletta Stavolta l'ho lanciata appena Ma Giuseppe ho visto sanguinare Eccolo la uno Guarda che ha distrutto l'ultimo Preso, preso, preso Preso, preso No No, 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 no Ma calmo, ma calmo Ma calmo Eh, capita Va bene sparare Oh, sparano dal glitch Ah, ci sta pensando Franky Come si fa a apporgersi dalle U U Eh, rada Due Due Vabbè Salta per fuori Copritemi, vado a sinistra Copritemi Chi è come dietro che spara? Io sto spando, eh Io sto spando, eh Occhio Occhio l'ho preso, avanza Danny Preso, occhio Danny Ok Come ci fa la scivolata? Uno Morto Avanzate, come ci fa la scivolata? Avanziamo noi Devi correre e poi premi Uno che sopra le scale Insima Occhio Preso, preso Via, lasciami, lasciami il tiro Ce n'è uno Prendetelo Occhio questi RPG Pazzo Merda No, levati tu con l'RPG, vai via No, prendi, no, levati, no Vai No, sento, spostati No, levati Cazzo Via, Danny Tiralo, ah, se lo devi tirare Ottimo colore Bella merda E' andato in fondo, no? No Schifo E' andato sul muro? E' andato sul muro che l'ho fatto Eh, niente Ce l'ho io o un altro se volete Mi chiamate Sì, ora che c'è Danny Vai Aspetta, aspetta 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 Ti sposto Oh Minchia, Danny Fatti vedere Danny Minchia Mento è andato via Anzi Vai, Franky Scendi che ho detto tu la scala Oddio, cosa è successo a Danny? Mento, Danny, dimenticatelo Vai vedere Dimenticatelo 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 Spero che sia di tuo mento Danny Dimentamelo Vai, andate Vai, Franky Qua, non ci accalchiamo tutti in questa indrata Io ho trovato Io ho trovato Io ho trovato la mia postazione Oh Aspetta, ricarico ragazzo Ricarico Sono appeso sulla ringhiera Ok, altri due Vado Che vogliono avanzare Eh, oppure Il buchino Vai, vai Danny, vai Tutto tuo Io avanzo io Oddio RPG No, no, no Non voglio fare sta fine Ah, scusa, vamos Da uscire da sta particina di merda Ely Chiacolo lì Chiamia, mi ha ritirato un nezzo Sobri il culo Ti devi partire Avanzo, 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 avanzo Io ragazzi dove devo andare Avanzo Ronaldo perchè così tanto devi andare dietro il camioncino di destra se volete altrimenti te ne stai bello fermo aspetta non mi sparate appare a stare uscito tranquillo fammi passare un attimo denaro adesso dica andare in chiunque avanti amo verso blu oh ma sparano mi ha preso l'ho preso franco ecco ok ho scoperto che c'è un uomo la tua parte mi ricaricano donna ragazzo la mano spettino a test di ghiaccio comunque non è una mano normale adesso è la mia un'emozione sul tappetino poi cazzo di ferro è peggio porca puttana te l'ho detto che un problema di inverno 4 a destra 4 a sinistra 4 a sinistra 4 a sinistra uguale 16 dai che cazzo di edizione fa saliamo le scale aspettiamo la mia edizione red 4 più 4 16 merda merda oh cosa in fondo l'ho preso frankie c'è un talebano di merda in fondo ho visto visto oh dal dritto si si oh ma mi dite come si fa chi m'ha fatto raga raga ci han fatto ma da dove non lo so mi sa sempre da dove ho ammazzato il tipo freddo si guarda lì la guarda dove spara giuse e teale sul retro morto alla nostra destra danny oh mi dovete far sto covrendo io sono dite anche le scariche non è minchia giuse sei una maschera di sangue le scarpe giuse lo carica che è conti io lo vedo tutto pulito e l'indepinto no no la testa sbucciatissima giuse oh grande si è tenuto però sparano ancora eh vado a preso dentro dentro scale ma un fatto minchia non ci credo eri immortale Ale eh ero un alfa una regina ci c'è a sinistra vado sulle scale no a sinistra ci sono io non ancora ma come mai siamo responati perché responi ogni volta che compissi un obiettivo oh capito ma quando responi arrivo alla seconda prendi coprimi la scale interna io guardo sulle rampe ok però coprimela perché se mi scende non lo vedo la fede si sporge a destra del muro invece di guardare si sporge verso il muro stavo facendo le prove non t'ho detto di andare t'ho detto di stare un po' più indietro che le tromba però coprimi la scale in discesa vabbè c'è crimi che avvicina a me Danny occhio che dalle rampe che hai gente sulle rampe c'è uno che arriva e lo vedo lo vedo non lo preso ragazzi non avete capito mi sa che l'ho fatto cadere dovete coprimi questa scala che scende lo sto avendo lo ho preso occhio occhio merda giuse vabbè iniziamo a salire frank dai vai piano piano vai basta che stai un po' più esterno così li vedi no vado avanti merda 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 chi è quello a fianco a me sono su eh io io sono su vai a coprirmi il lato destro no che cazzo cioè copritemi il lato destro voi due e dite se sei libero vabbè io sto nell'angolino così libero guardami no col cazzo perfetto libero vabbè vabbè no un attimo fondo fondo vai via è franky ho preso vittemi quando siete su iniziamo a salire merda è da solo occhio crimi aiuto occhio crimi è crimi iniziamo a salire fedelo hai esciato è libero lì è libero ti devono raggiungere gli altri cazzo ce n'era uno vai danny a rieta da solo congiungiti sulle altre scale agli altri che sono rimasti a sinistra c'era libero c'era un rpg sulle scale era uno c'era una marda crimi l'avevo detto porca troia io ti ho detto a sinistra è libero destra non lo sai a destra non lo sai 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 attendo attendo danny che c'è qualcuno sì c'è uno danny che nervoso danny ma sta dalla destra aspetta provo a vedere io no è proprio dentro è dentro in bandiera danny sta attento che figlio di eh ma adesso non so se era lui eh fede guardati a sinistra no incrociata cazzo è rimasta l'ultimo stai lì fede stai lì un attimo e controlla aspettalo dall'entrata ce l'hai lì dall'entrata fede dove lì dall'entrata qua lì lì abbassati premici premici ti verrà a prendere eccolo vai vai piano piano è tutto buio cristo vai vai sta giocando allo slender dai ricarica registro le fai eh non puoi star lì eh tanto devi andare su D devi andare su D fede vai piano se ne vede un'altra è finita ha già dato lei guardati a sinistra fede mentre esci dall'angolo guarda slender occhio abbulciata entra nella stanza guardate la in terza persona la fede come si fa vedendo spazio spazio ok è terrorizzata la fede entra un cane bastonato straiate straiate entra la ceno cazeta ora si prende il sole non cagare 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 se mi dite 800 cose alla volta non li ascolto tutti e ti arrivano da queste scale non metterti lì ci siamo che non cagare grande vabbè sono sopravvissuta ok 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 va fanculo oh ragazzi son morto ma come no cosa ma come sei morto sono spawnato sono precipitato son morto ma quello a cui ho sparato prima no merda è questo in fondo dritto in fondo non avete più da rire eh va morto addio che feste è va morto ci tirano un rpg lo ho preso lo ho preso occhio c'è l'uno nell'atrio è morto è morto con l'altra chi mi seguiva sul lato destro io io e la fede ci siamo ah va bene allora venite state esterne che non vi prendono oh c'è gente eh la destra guardami sparano oh ma come non c'è nessuno siamo tutti sulla destra ma da me non c'è nessuno a sinistra beh magari qualcuno che rimasta oh ne è entrato uno al centro red non lo vedo è al centro morto da dove vabbè a sinistra red abbassa tutti eh vabbè ok l'hom fatto ok ok allora scusate c'è un'opzione per togliere per togliere il fatto che devo ottenere i pulsanti per abbassare sì sì se fede perché prima è impossibile speciale tenendo premuto z ma sono l'ultimo fatemi capire no no ci sono anche io no c'è giusto ok ma fede dov'è minchia è veramente un cagnolino dietro io sono qua dietro chei 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 eh chei 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 ok fede ti dovrò chiedere di far la kamikaze no vabbè dai va bene no vabbè vabbè metti guardo io esterno però c'è che mi posso posiziono a sinistra io bisognerebbe uscire ragazzi no guardate la fede dall'esterno cioè guardate la fede è stocchissimo è stocchissimo è stocchissimo è stocchissimo ragazzi cioè cioè fede devi uscire e guardare a destra ok ma che mi corro nel buco del culo no esci io eh esci io escire e guardare a destra dove sono io fede eh ci scavalica fede fai parkour fede parano ancora chi cazzo è che ha sparato non so io andavo a destra ma non vedo nessuno a destra ce n'erano due e li ho tirati giù a sinistra niente nessuno alle libero però qualcuno serva che vada sulla destra a coprire mentre voi distruggete eh mandala fede 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 copri dove son morti quei due tale balian red i morti non parlano perfetto eh veramente eh quelli che son morti zitti zitti ma questo no ragazzi chi è che sarebbe beccato no io ho visto visto un pazzoide della madonna vabbè hai le gravate qui va bene fede qui va bene qui va bene ho una bella smocca se vuoi sono io che ho fede eh si ho visto frag out frag out ma che siamo rimasti dietro 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 no ora spawniamo no è giuse è sempre giuse ci serve una nata fede è una nata sono da cercarla forse non lo so non lo so sinceramente scopo la rotella giro la rotella con uno smoke grenade no che paura che paura oh molotov una bottiglia ma siete tornati dentro io devo rimanere qua no la trovata ho trovato la molotovio chi viene ora giù con me fede vuoi venire tu e chi altro crimino io vado con trigger che la conosce chi la conosce a sinistra oh merda ok se non stavano vabbè dai andiamo io non possiamo passare Ale minchia è una merda infatti tu dici ma cosa è successo cosa assurdo sto qua chi vado io occhio chi è che vieni qua guarda la destra Danny io guarda la sinistra te l'ho fatta no minchia ha vito ma non ci credo pfff avanza avanzate occhio frankie merda occhio frankie perché corri cazzo per dio avanziamo dietro Danny prossima volta ti sparo nella schiena è l'unica stai da solo frankie ti conviene congiungerti agli altri no e qua non arrivano tanti sono indietro quindi no 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 stai lì rimani lì no guarda non guardare di là questo stava scappando tremate tutti state tutti tremando eh ma è la paura abbiamo paura minchia tremate di brutto merda guardo sulla destra eh vai giuseppe guardatevi le spalle io sono andato ecco perché c'è così tutto in culo ma vaffanculo animale bastardo oh c'è un altro non lo vedo eh un altro dai affacciatevi fatti piastini porca tre dici a me crimi no 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 quest'altri due è qui vince eh avanzo si vai avanzo vai a quarto da sinistra e la destra preso destra è pulito avanzate che cazzo che cazzo raga francky se è morto avete il culo scoperto eh perchè perchè francky è morto nessuno è giusto sono qua oh li vedi da sotto da sotto minchia sono scatenati da noi raga che è da sotto la gip di sparano ma lei visti venni da me oh oddio merda oh l'ho sceso da dietro no l'ho sceso davanti fede e crimini c'è bisogna che venite avanti l'ho scelto eh capito l'ho scelto guarda ne arriva un altro vale da dove l'ho scelto l'ho scelto l'ho scelto l'ho scelto aspetta mi aspetta mi ricarico l'ho scelto orca merda sei nascosto vieni crimini vai preso non ne vedo altri sembro ma quindi ora tri cioè siamo morti tutti gruppo red morto tutto gruppo red eravamo in tre andate su f dai da sto punto no siete morti si 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 crimini puoi guardarlo tu sto punto eeeh no mettici la fede no la fede guarda qua sotto fede guarda qua sotto ok vado a conquistare il punto eh vai ora me ne becco uno oh lolololol mmm fede fammi un fischio se hai bisogno vabbè 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 che arriva non benzo bello si stira il fiato quando mira si stira il fiato ok siamo nessun ok move vabbè 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 non va bene stiamo lì sì 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 sono nel panico qua cosa dobbiamo fare mantieni f per due minuti dove ho conquistato io sì sì ok occhio alla vostra destra bella va bene bambini vabbè aspettiamoli occhio crimi perchè mi sa che arrivano proprio da lì dove stai guardando te eh sì forse sì da destra dal fondo vieni 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 eh arrivo eh vai avanziamo eh ma c'è da proteggere più che da avanzare eh eh allora stiamo qui vai per il riprescio stai alla mia destra mettiti lì mettiti lì lì metti lì pensi che rimano tutti da un buco quindi ma perchè s'era giù eh perchè sono rimasto qua vabbè ho preso per un colpo anche sparato qua da me e crimine non arriva un cazzo eh stanno di la guarda se ti sporgi è un po' pericoloso eh però sì assolutamente sì no ma la scena è piuttosto solo uno di lì che controlla e tu girati di qua sembra pulito qualsiasi anche quando in casa ok vieni ma spari a caso? sì ah ok perchè fai i traccianti rossi pulito spara i flare vedi un po' la tua sinistra sprenchi sta resistenza ogni volta non è mai impegnativa la parte finale è sempre una cazzata da fare easy telefono telefono a casa si ora qui guarda